Ben trovati, testimone credibile fino all'effusione del sangue. Da domenica scorsa la Chiesa Cattolica ha una nuova beata e il mondo intero vede rilanciata una vita per gli altri. Avrete capito, parlo di Suor Maria Laura Mainetti, al secolo Teresina essa. È bello anche ricordare come l'avevano chiamata i genitori. Ne parleremo tra poco e vedremo anche il suo bel volto che comunque resta quello che maggiormente ha lasciato noi perché già dai tratti del suo volto si vede tutta la sua vita dedicata agli altri e spezzata con un martirio, proprio in odio alla fede, il 6 giugno del 2000. Ma intanto, come sempre, in questo spazio noi andiamo da un'altra parte dove sicuramente si parla di bontà, di dedizione agli altri, di fede, di beati e di santi, ovvero nella Chiesa San Pio. Dovremmo avere collegata la nostra Maria Antonia Di Maggio. Eccola qui. Ciao, Maria Antonia. Buongiorno a te, Maria Pia. Buongiorno a tutti i telespettatori. Sarà bello ricordare questa straordinaria figura, appunto, suor Maria Laura, che è stata appunto beatificata. E noi torniamo a collegarci, come giustamente dicevi tu, da quello che è il cuore del pellegrinaggio dei luoghi qui di San Pio, ovvero appunto la chiesa di San Pio, qui a San Giovanni Rotondo. E devo dire che è molto bello vedere come questo luogo e tutti i luoghi di Padre Pio si stiano ripopolando della loro presenza più preziosa, ovvero quella dei pellegrini, che speriamo, come stiamo facendo in questi giorni, di riuscire ad intercettare anche oggi. Intanto avremo, a proposito di pellegrini, ospite a una responsabile dell'ufficio pellegrinaggi, proprio in modo da poter dare le info utili a chi sta pensando di organizzare, riprogrammare magari i pellegrinaggi rimandati. Questo è il momento buono, ovviamente. Poi avremo anche una presenza tanto cara a tutti noi, che avete visto per tutto il mese di maggio. Vedo ovvero Padre Rinaldo Totaro, che ci ha tenuto compagnia in questi giorni di preghiera mariana con i suoi fioretti preziosi. Parteciperemo insieme alla Santa Messa delle 11.30, che sarà celebrata da Fra Giacinto De Gianni. Io restituisco di nuovo a te la linea, intanto vedo già dietro le nostre telecamere movimento, quindi sarò pronta a richiederti il collegamento appena saranno arrivati i nostri ospiti. Grazie Maria Pia a te. Grazie a te Maria Antonia, grazie davvero. C'è Fratevento oggi a San Giovanni Rotondo, c'era anche intenso Fratevento domenica scorsa a Chiavenna, nei luoghi in cui appunto la Chiesa ha formalizzato che questa donna è degna di essere proclamata beata. Do subito il saluto e la ringrazio alla dottoressa Francesca Consolini, e che è collegata con noi e che è la postulatrice. Allora, intanto è con grande gioia che l'accogliamo per tutto quello che ha fatto. Grazie Francesca. Grazie a voi per questa possibilità che mi viene offerta ancora una volta di poter parlare di Suor Maria Naura. Una vita che era cominciata il 20 agosto del 1939 e che è stata spezzata in maniera brutale e che ha creato veramente un'angoscia, strascichi di orrore, non solo nella nostra Italia, ed è avvenuto nella sua diocesi. Raccontiamo velocemente la parabola della sua esistenza, prima del martirio. Ma è una vita molto semplice, quella di Suor Maria Naura, perché se la guardiamo dal punto di vista esteriore, è stata una suora come tante altre, nel senso che non era una fondatrice, non è stata una madre generale, non è stata una suora come ce ne sono, che ha pubblicato libri, studi. È stata una persona molto semplice, come lei ha ricordato, era nata il 20 agosto 1939, in una famiglia molto numerosa, era l'ultima di dieci figli. Poi il papà, dato che la mamma di Suor Maria Naura morì, lasciando lei, piccolissima, e tutti questi bambini, il papà si risposò ed ebbe altri tre figli dalla seconda mamma, che si accollò, diciamo, anche la cura di tutta questa nidiata di piccoli. Lei era una ragazza di carattere, era piuttosto timida, molto buona, molto dolce. Poi, come lei stessa ha raccontato, verso i 18 anni, ha sentito durante una confessione, il colloquio con il sacerdote, questo sacerdote gli fece capire che la vita non andava sprecata, che era necessario fare qualcosa di bello per Dio e per gli altri. Le sue prime tappe sono state delle tappe molto semplici, perché tramite un'amica di famiglia andò a studiare a Parma, nell'Istituto Laura San Vitale, gestito, tenuto dalle suore delle figlie della croce, e lì, completando gli studi, capì anche che il Signore la chiamava la consacrazione religiosa proprio tra queste suore. Per cui, terminati gli studi, iniziò anche il percorso, diciamo, di formazione religiosa. Infatti, il 15 agosto 1959, dopo aver compiuto il noviziato che fece in Francia le Puy, perché questa congregazione delle figlie della croce, è francese, da quel giorno divenne figlia della croce. Ecco, adesso la interrompo, perché altrimenti non facciamo in tempo anche a approfondire gli aspetti, ovviamente, anche più importanti per tutti noi. La interrompo, perché siamo arrivati al punto cruciale, cioè al dedicare la propria vita agli altri attraverso la scelta per il Signore. E rispetto a questo, domenica scorsa, il Cardinale Marcello Semeraro, che come sapete ha presieduto, in qualità appunto di prefetto della congregazione per le cause dei Santi, il rito della beatificazione, ha voluto anche, oltre a parlare naturalmente di tanti risvolti, darci come una sorta di evidenziatore rispetto a quello che stiamo vivendo. Sentiamo. Aprite gli occhi e osservate quante luci di quella carità irradiano dal suo mantello, dalle gemme scintillanti di quella presenza di Cristo che è la vera carità, chiama ancora fra noi. Osservate quante vocazioni di uomini e di donne ancora oggi immolano vite giovani e fiorenti all'esercizio e alla testimonianza della carità. Ecco, la beata Maria Laura Mainetti che invocò dal Signore la vera carità è una di queste testimoni, anzi è martire. L'espressione vera caritas lo sappiamo è presente nella liturgia vespertina nella Ciela del Signore il Giovedì Santo. Dopo il gesto della lavanda dei piedi che ci ricorda la carità di Cristo e durante la processione dei fedeli che insieme con le offerte per l'Eucaristia portano anche i doni per i poveri la Chiesa ci fa cantare un antico inno composto da Paolino d'Aquileia durante il quale si ripete l'antifona ubicaritas est vera Deus ibi est dove la carità è vera lì c'è Dio e uno dei versetti di quel canto dice noi formiamo qui riunite un solo corpo abbiamo visto dunque allo stadio di Chiavenna siamo nella diocesi di Como naturalmente c'è stato anche l'intervento molto intenso proprio della nostra ospite collegata con noi via Skype la prego di guardare in camera con i suoi begli occhi che dicono tanto dottoressa Consolini perché adesso le devo fare una domanda un po' più difficile perché in questa storia coloro che hanno martirizzato questa suora non sono mai state presenti mentre noi tutti ventun'anni dopo vorremmo sapere visto che lei ha perdonato suor Maria Laura proprio mentre veniva martirizzata vorremmo sapere se questo sacrificio ha salvato anche queste ragazze questo lo dobbiamo affidare alla misericordia di Dio non posso dire altro perché queste giovani hanno fatto il loro percorso secondo la giustizia appunto secondo però non entriamo dentro il mistero dei cuori il mistero dei cuori lo riservato soltanto alla misericordia di Dio possiamo solo augurarci che il sacrificio e la preghiera di sor Maria Laura abbia lasciato un segno ma noi non lo sappiamo ma lei nelle sue ricerche quanto si è occupata anche di loro mai mai perché dovete tenere ben presente che cos'è il martirio in odio alla fede allora il martirio in odio alla fede è la soppressione appunto di una persona per delle ragioni che non sono personali utilitaristiche cioè tu vieni ucciso perché non vai d'accordo con la mia idea politica la mia idea sociale eccetera quindi il contesto deve essere di odio alla fede e c'è da parte del martire la disponibilità a dare la vita per dare testimonianza appunto alla fede allora la parte che riguarda il contesto di odio alla fede è chiaro perché lei è stata uccisa in un contesto di ricerca di di un rito satanico che non aspetta non ha aspettato a me evidenziare perché loro sono state sottoposte rispettivi e vari interrogatori da parte della giustizia penale e quindi questo è emerso lì a me spettava visionare studiare la figura di sua Maria Laura della martire cioè capire da parte sua quanto c'era di disponibilità a dare la vita appunto in odio alla fede e questo sì io posso parlare di lei in lungo in largo ma non di loro perché per loro sono stati sufficienti gli interrogatori che sono stati svolti molto bene molto accurati in sede penale perché una volta emersa che la motivazione dell'incisione non era personale non era legata a motivi di odio personale nei confronti della persona ma era in questo contesto particolare certo ma la sua risposta è veramente esaustiva ma lei capisce che comunque noi facendo il nostro lavoro da una parte appunto non possiamo che interpretare anche le domande di tutti oltre che dei fedeli che lodano il Signore naturalmente noi facciamo parte di questi e infatti a questo proposito del fatto che dobbiamo anche essere orgogliosi del sistema giudiziario italiano che protegge i minori perché queste ragazze erano minorenni quando erano già purtroppo appunto invasate da questo sentimento di conoscere meglio Satana e addirittura sacrificare una persona dell'altra parte cioè dedita al bene a lui e queste ragazze sono talmente protette dalla giustizia che adesso hanno delle identità per cui sono per tutti noi irreperibili e questo è un aspetto molto importante e positivo del nostro sistema giuridico che io voglio rimarcare però voglio anche farvi sentire perché c'era una figura che rappresentava la giustizia rappresentava l'accusa addirittura il procuratore Avello è stato presente Domenica e sentite che cosa ha detto dal momento in cui l'ho vista tutta raccolta morta su se stessa tutta piccolina è un momento che mi ha impressionato moltissimo a tutto quello che poi si è sviluppato alla soddisfazione anche nostra di inquirenti quando il caso è stato almeno risolto sul piano delle indagini e poi quando abbiamo capito la complessità della figura di questa suora perché in un primo momento si è visto che la persona è morta per darsi agli altri per donarsi insomma quando l'ho detto lì ho avuto proprio una sensazione così ci sono poche persone così ricordo che la nostra operazione intitolata raggio di luce condotta dal maresciallo Grega e dai suoi uomini aveva questo nome proprio perché noi volevamo trovare del positivo nel negativo che era avvenuto poi quando abbiamo sviluppato le indagini che abbiamo visto che purtroppo tre minorenni si erano macchiati di questo gravissimo delitto preso atto peraltro del paroi di perdono della sua ora sempre disponibile ad aiutare gli altri quando ce ne fosse bisogno senza nessun interesse allora allora mi venne anche quella frase che da alcuni viene ricordata dice queste persone sono le luci del mondo queste persone che sono pronte ad offrirsi per gli altri senza nulla chiedere e quindi suorlari è stata una testimone di questa capacità di donarsi parola del procuratore della Repubblica Avello che si è occupato appunto della causa penale ma noi adesso facciamo una breve sosta dottoressa Consolini mi dicono che dalla chiesa di San Pio sono praticamente pronti per un collegamento prezioso per noi io però prima di salutarla oltre a ringraziarle a ricordare che c'è un sasso intriso di sangue come segno di reliquia e anche evidentemente di grande forza degli eventi le voglio strappare una promessa di risentirci non solo per suor Maria Laura ma anche per altre figure di cui so che lei si sta occupando grazie tante grazie a voi speriamo a presto ecco a presto appunto è invece immediato e non presto il nostro collegamento con Maria Antonia di maggio a te ritorniamo qui in collegamento dalla chiesa di San Pio in apertura abbiamo parlato dei pellegrini che popolano che hanno popolato i luoghi di Padre Pio e ovviamente parlando di pellegrini non possiamo non dare voce a quella che è la centrale operativa dei pellegrinaggi qui a San Giovanni Rotondo ovvero l'ufficio pellegrinaggi diamo il benvenuto in rappresentanza appunto di questo lavoro prezioso Mariana Lops buongiorno Mariana buongiorno Maria Antonia buongiorno allora io una prima domanda che ho da farti è questa abbiamo visto che ricomincia abbiamo passato tutti dei mesi difficili immagino anche voi abituati comunque al contatto diretto con i pellegrini intanto voglio farti una domanda anche un po' personale se vuoi ovvero come avete vissuto questi mesi di chiusura forzata che cos'è che dai pellegrini arrivava come maggiore richiesta ovviamente è stato difficile anche per noi dell'ufficio pellegrinaggi non essere presenti in ufficio perché come tutte le attività ovviamente eravamo soggetti a chiusura e di conseguenza l'ufficio è rimasto chiuso per diversi mesi quando poi in maniera ovviamente timida si è ripresa l'attività dell'ufficio pellegrinaggi tantissime erano le telefonate dei fedeli che arrivavano qui ovviamente tramite telefono e arrivavano richieste di preghiera di preghiera per chi era stato colpito direttamente o indirettamente dal covid e ovviamente le richieste erano non solo per la salute ma anche sotto l'aspetto lavorativo sotto l'aspetto umano perché insomma questo questo virus ha colpito tantissimi aspetti della vita anche sociale delle persone quindi è bello anche immaginare come l'ufficio pellegrinaggi al di là delle indicazioni operative sia rimasto comunque un po' anche il punto di riferimento dei tanti pellegrini anche in questi terribili mesi di pandemia ora però che finalmente la famosa luce in fondo al tunnel di cui per tanto tempo abbiamo sentito parlare che tanto abbiamo atteso sembra davvero intravedersi sembra davvero che siamo come dire alla fine di questo difficile momento e state registrando una richiesta c'è gente che ricomincia a riprogrammare quant'è la voglia di ritornare allora i pellegrini di San Pio ovviamente quelli che erano abituati annualmente a visitare questi luoghi hanno un forte desiderio di ritornarci tant'è che registriamo proprio tante richieste nei già dal mese di luglio registriamo tante richieste proprio di capogruppi che cercano di fare dei pullman organizzati di venire qui in pellegrinaggio però il problema principale è proprio dato dai trasporti perché ovviamente la normativa vigente dà delle indicazioni che dimezza di fatto il numero di pellegrini che possono viaggiare sullo stesso autobus e questo ovviamente è un forte limite per chi si organizza però confidiamo già dal 14 si parla di passaggio a Regione Bianca zona bianca per la Puglia quindi speriamo bene speriamo che questo possa dare nuovo impulso il 14 è un traguardo arrivato ormai quindi sicuramente insomma ci sarà modo l'ufficio pellegrinaggi rimane a disposizione di tutti i pellegrini di chi sta organizzando di chi sta riprogrammando il proprio pellegrinaggio qui nei luoghi di San Pio a questo proposito una diamo diciamo delle info utili delle infotecniche per chi vuole contattare l'ufficio pellegrinaggi innanzitutto il sito conventosantuariopadrepio.it poi c'è la mail info chiocciola santuariopadrepio.it poi sul sito ovviamente troverete anche tutti i recapiti telefonici grazie Marianna buon lavoro e complimenti per il vostro prezioso lavoro grazie grazie a te grazie a tutti quelli che comunque desiderano venire in questi luoghi noi siamo pronti ad accoglierli bene allora con questo augurio dall'ufficio pellegrinaggi noi restituiamo la linea a voi però solo davvero per qualche secondo il tempo di fare un cambio ospite perché vedo già il nostro caro padre Rinaldo Totaro lì dietro la telecamera pronto a venire qui davanti alla nostra telecamera ad entrare nelle vostre case quindi qualche minuto di linea a voi poi torniamo ancora qui grazie Maria Antonia grazie intanto voglio ricordarvi visto che giustamente già si citavano i mail possibilità di comunicare meglio noi abbiamo più volte sollecitato attraverso Paola nei giorni scorsi la nostra Paola Russo le vostre fotografie o anche semplicemente i vostri ricordi per iscritto attraverso questo indirizzo mail che è infochiocciolateleradiopadrepio.it io direi che magari attraverso altri modi attraverso altri device facebook e quant'altro ma voi lì più che altro un po' come tutti vedo che inserite simboli invece qualche volta ci vuole proprio un'immagine o una parola più che un simboletto da ventunesimo secolo che naturalmente ci sta anche bene quindi scriveteci se volete poi ovviamente qualcuno di voi ancora ci chiama e per questo ringraziamo la nostra Grazia Pia Perrone che è tutte le mattine qui in redazione e vi risponde al telefono credo che padre Rinaldo dovete sapere che lo abbiamo sorpreso a passeggiare qui dietro la chiesa annusando il profumo dei gelsomini perché padre Rinaldo davvero oltre che per l'abito come dire che indossa e quindi ha una cura del creato che è davvero ammirevole voi l'avete anche visto durante questi giorni della preghiera mariana del santo rosario del mese di maggio giorni nei quali ci raccontava anche del significato dei fiori insomma ci rimettevi in connessione con il mondo che ci circonda perché è anche un privilegio il tuo quello di riuscire a guardare la bellezza che abbiamo intorno quindi vorrei chiederti innanzitutto un consiglio anche diciamo una semplice domanda come si fa ad avere così cura così rispetto per il creato è un esercizio è un dono perché tutti dovremmo farlo certamente cioè penso che prima di tutto come francescano no è più che naturale che io abbia uno sguardo o che noi frati i cappuccini frati i francescani come tutti coloro che hanno nel cuore una sensibilità francescana devono avere verso il creato che diciamo è dono di Dio ma è anche presenza sua intorno a noi anche perché se ci guardiamo intorno credo che l'aspetto particolarissimo che dobbiamo cogliere in tutte quelle cose che noi incontriamo è la grande grande provvidenza che credo che sia una conseguenza dell'amore grande che Dio ha per l'umanità per ognuno di noi ecco dicevi dell'esperienza che abbiamo fatto in mesi di maggio è stata veramente una cosa bella straordinaria al di là della connessione con tantissime persone che vivono alle altre parti del mondo con tutto quell'amore bello per la Vergine Santa il padre San Francesco San Pio e poi ecco perché ho visto ho sentito anche perché tanti poi hanno scritto qualche lettera qualche così hanno telefonato per ecco questa scoperta che tante persone hanno fatto proprio di queste cose belle che sono intorno a noi questo penso che sia molto bello perché anche Papa Francesco ci invita ad avere cura del creato è una cosa naturale normale se andiamo se continuiamo a non essere attendi a ciò che ci circonda a tutto quello che il Signore ci ha donato e siamo diretti verso qualche cosa che certamente non ci farà bene invece noi dobbiamo vincere le cose che non sono buone con le cose belle le cose buone anche usando perché il Signore ha messo intorno a noi tutto questo bene perché lo dobbiamo usare cioè è al nostro servizio ma un servizio buono come il buon vino diciamo che ci può far bene ci rende un po' gallegri ma se ne beviamo troppo poi ci ubriachiamo facciamo male a noi e agli altri e al prossimo allora Padre Rinaldo già ci hai dato tanti consigli preziosi e ci hai impreziosito questa diretta davvero con queste parole utili innanzitutto perché molte volte giustamente come dicevi tu c'è bisogno innanzitutto di una riscoperta però abbiamo ancora un paio di minuti prima di ridare la linea allo studio vuoi regalarci un fioretto anche oggi anche se non siamo più nel mese di maggio siamo nel mese di giugno ecco giugno è dedicato al cuore di Gesù venerdì prossimo è la solennità del cuore di Gesù e io credo che ecco maggio se possiamo considerarlo il mese dei fiori no? il mese dove la natura proprio esplode in una vita nuova e giugno è un po' il mese dei frutti e quindi ci sono tantissimi frutti dicevo a Vito l'operatore che nel nostro orto proprio dietro la casa di Orazio Landi che è stato il benefattore proprio del 1500 che ha donato il suo terreno per costruire il convento c'è un magnifico albero di ciliegio e è pieno pieno di ciliegie proprio Dio ha sempre questa sovrabbondanza di dono no? e quindi diciamo che sono i frutti e pensavo ecco al di là dei frutti che possiamo trovare sugli alberi credo che Gesù ci inviti anche noi a fare dei buoni frutti no? per esempio ecco lui dice che lui è la vita e noi siamo i tralci dobbiamo portare uva bella uva buona e credo San Paolo ci ricorda di quelle cose buone noi frutti buoni che dobbiamo fare la pace la benevolenza la misericordia la concordia tutte queste cose quindi penso il fioretto è questo dare i frutti dare i frutti grazie grazie davvero a padre Rinaldo con questa immagine francescana diamo ancora la linea allo studio grazie a padre Rinaldo grazie Maria Antonia a questo punto posso solo aggiungere una comunicazione interna come dire so che Anna Maria è lì quindi prossima ricetta quella o dello sherry o del maraschino mi raccomando o al limite anche una torta alle ciliegie se vogliamo andare sul cibo anziché sui vini ma noi stiamo scherzando perché è sempre anche il momento di sorridere non solo dopo magari una lacrima come è avvenuto a proposito di suor Maria Laura ma anche di darci un sorriso reciproco in queste giornate intanto do la linea alla regia attraverso l'archivio di voce di padre Pio oggi vi mostro una foto che ha parecchi decenni perché risale al 12 febbraio del 1985 questo è un pellegrinaggio della squadra di calcio dell'Akragas un bel nome di origine greca siamo in Sicilia infatti in provincia di Agrigento e dunque fate anche voi date uno sguardo nei cassetti e se volete fate parte di questa famiglia di coloro che ricordano i loro bei momenti tanti bei momenti arriveranno anche nel santuario San Pio ovviamente in futuro in futuro Grazie.